Ci troviamo nel parcheggio di via Belgioioso, nuova area di sosta, area di sosta recente che da diversi mesi è aperta al pubblico in forma libera, ma da martedì scorso ha avuto questa novità, una novità imposta da un'ordinanza comunale, quella del parcheggio con disco orario per due ore durante l'orario del mercato settimanale, quindi dalle 9 alle 13. C'è stato un primo effetto traumatico con multe derivate dal fatto di una evidentemente non così incisiva informazione, però questo è un provvedimento che viene dall'ordinanza comunale ed è concordato con Confesercenti che ha raccolto quelle che erano le istanze appunto degli ambulanti del mercato. Esattamente Daniele, la Confesercenti ha chiesto all'amministrazione comunale di lavorare affinché venisse imposto questo disco orario di 120 minuti nell'area del mercato, nel giorno del mercato. Si tratta solo di questo luogo, non nel parcheggio di via Mirabelli, perché quel parcheggio che ha 50 metri a distanza da questo invece è libero, quindi le persone che vanno a lavorare in centro se vogliono fanno 50 metri in più a piedi e possono usufruire tranquillamente senza bisogno di tornare col fiatone a cambiare il disco orario. Sulle multe non diciamo niente perché può darsi che c'è stata una cattiva comunicazione, la gente si è arrabbiata, questo non ci interessa. Quello che cerchiamo di far capire è che bisogna dare una mano tutti, gli operatori pagano un canone del ricognitorio per le opere accessorie e per il San Decenzio, questa è un'opera accessoria adibita all'uso del mercato, quindi diamo l'opportunità a tutti i clienti del mercato di venire a fare un giro al mercato con 120 minuti di tranquillità. Tutto qui, polemiche stanno a zero e un po' più di sensibilità e di rispetto anche per il lavoro altrui. Anche perché il provvedimento interviene su una situazione che diventava spiacevole per chi voleva usufruire del parcheggio del mercato e poi si ritrovava camperisti, residenti o pensiamo ad esempio ai dipendenti del Tribunale di Pesaro che dovranno semplicemente fare un accorgimento per un'unica giornata. Sì, la sensibilità che noi chiediamo è di riuscire a modificare una propria abitudine consolidata nel tempo, consolidata a pochi mesi il parcheggio qui, quindi non è stata proprio consolidata, però diamo l'opportunità a tutti di fare un gesto di altruismo per garantire il lavoro alle persone. I camper sono qui parcheggiati, erano una quarantina, cinquantina, che comunque tolgono, ma anche per chi va al cimitero, questa non può essere un'area camper. Ognuno deve rispettare gli altri, se riusciamo a fare questo secondo me le polemiche stanno a zero, continuo a dirlo. Il mercato ha bisogno di un'opera accessoria che è questa, se non c'è questa il mercato non funziona. Ognuno deve rispettare gli altri, se riusciamo a fare questo secondo me.